Eccoci qua con Alberto Marinoni, oggi per te un terzo posto su questa pista allora raccontaci un po' com'è andata, le tue sensazioni allora benissimo, è andata bene, la giornata è stata ottima la gara molto impegnativa, un tracciato bello, molto rotondo, angolato con una tracciatura sui 28 metri, quindi anche molto veloce ha vinto il più forte, Cristian Sorlini, io da Cristian ho preso un secondo secondo è arrivato l'Andrea Savoldelli e sono contento così La visibilità ti ha dato qualche problema? No, la visibilità no, la pista ha anche tenuto, non c'erano buche, erano ottime condizioni Complimenti all'organizzazione che come sempre è al top in tutto E diciamo un po' allora, i tuoi prossimi appuntamenti, quali saranno, dove ti vedremo in gara? Sicuramente cercherò di essere più frequente al circuito ski race cup devo un po' abbinarlo con il lavoro, però quando potrò ci sarò E i tuoi obiettivi per questa stagione? Allora, mi preparerò per le gare in casa che sono il Montepora e poi sicuramente il campionato regionale a Bormio, in gigante e poi che mi interessa molto il campionato italiano maestro di sci Va bene, ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti facciamo un in bocca al lupo per le prossime gare Grazie a voi e alla prossima